Si è conclusa l'emergenza a maltempo anche a Fano, quanto sono stati i costi per far fronte a un paio i problemi che si sono creati? Per quanto riguarda gli incarichi che abbiamo dovuto dare alle varie ditte per intervenire immediatamente abbiamo speso intorno ai 30.000 euro, abbiamo comunque richiesto ulteriori 7.000 perché abbiamo un problema a livello del crinale di Montegiove dove purtroppo ci sono state svariate microfrane, adesso non c'è nulla di allarmante però è opportuno andare a fare delle verifiche puntuali e precise quindi chiederemo ad un geologo di intervenire per capire come muoverci e come intervenire bene evitando quindi per il futuro queste microfrane che comunque oltre a danneggiare il territorio sono onerose per la nostra amministrazione. Tra le situazioni più gravi quella di Viale Ruggero e Sassonia di Fano per cui si è chiesto anche lo stato di emergenza, proprio ieri c'è stato l'incontro con il comitato Sassonia Sud presieduto da Luca Priori, di che cosa si è parlato, che cosa è stato spiegato al comitato? E' stato ribadito quello che già più volte abbiamo detto e cioè che questi 3.200.000 euro come la stessa regione sui quotidiani di ieri ha confermato sono stati assegnati al progetto di Sassonia Sud, pertanto siamo in attesa che il ministero mandi il nominativo di un commissario e mi risulta che proprio ieri il presidente della regione SPAC abbia avuto un incontro a Roma e quindi che la prestigiacomo si stia muovendo in questo senso per darci una priorità proprio in virtù del fatto che noi abbiamo chiesto questo stato di emergenza dando quindi la possibilità di inserirla tra le priorità ancora una volta. Quindi non appena il commissario sarà nominato si procederà e si darà inizio a questo iter. Ancora questa mattina mi sono sentita con la regione, mi confermano che si sta lavorando in questo senso ed auspichiamo che la prossima settimana già si possa avere questo nominativo, quindi spero di potervi dare buone notizie quanto prima. Poi con il comitato si è parlato di una serie di altre problematiche come il sottopasso del bersaglio, come la conferma del parco alla pista dei go-kart, ecco tutte cose che comunque stiamo perseguendo perché riteniamo importanti e prioritarie per il territorio. Cambiando ancora argomento domani ci sarà una manifestazione dei pescatori che tornano ancora a sollevare l'attenzione sui loro problemi in particolar modo sul dragaggio del porto. Quale può essere la soluzione? Allora, anche qui recentemente sono stata ricevuta in regione e mi è stato confermato che per la cassa di colmata prima del 2013 non ci sono speranze. Di conseguenza, oggettivamente, non si può pensare di andare a fare un dragaggio completo del nostro porto perché non ci sarebbe il luogo in cui andare a depositare questi fanghi. Né tantomeno è pensabile di andare a rifare, di andare a riutilizzare la soluzione degli scorsi anni e cioè degli ultimi due dragaggi in emergenza dove per una ridicola, veramente ridicola misura di quantitativo di sabbie si è speso un'esorbità. Perché pensate 980.000 euro per 6.000 metri cubi che poi oltretutto devono essere depositati nella nostra discarica. Questo non va più bene. Quindi stiamo continuando a lavorare invece su questa nuova metodologia di dragaggio che appunto è il desorbimento che non sono pure semplici fantasie come qualcuno ha voluto dire ma che stanno diventando pian pianino realtà. Nel senso che stiamo continuando ad incontrarci con ARPAM, con la regione e entro i prossimi 15 giorni faremo un tavolo tecnico. Proprio questa mattina ne ho avuto notizie dalla regione quindi ecco si sta continuando a lavorare su questo fronte. Noi non ci dimentichiamo della nostra marineria, anzi siamo con la nostra marineria e quindi andiamo avanti su questa strada.